Salve ragazzi, io mi chiamo Riccardo Tognetti, o Fieric come preferite, e oggi sono qua per raccontarvi tutta la mia storia, tutta la verità, sul personaggio, su cosa si cela dietro il personaggio di Fieric. Ma partiamo dall'inizio. Dovete sapere che ho iniziato a giocare a League of Legends fine 2013, quindi intorno a novembre e quindi nella pre-season 4. Come un buon 95% di giocatori di League of Legends, giocavo per vincere, per salire, il mio obiettivo era quello di salire, però ovviamente non mi divertivo a giocare sempre da solo, da solo Q, mi piaceva più giocare con gli amici, e quindi tralasciavo le ranche e preferivo giocare le normal con gli amici, o le ranche con le amici in duo, perché ai tempi si poteva fare soltanto duo, non come adesso che c'è proprio il casino più totale, e non ero così interessato a salire, fino a che non ho scoperto il potere del troll. Cosa intendo per il potere del troll? Intendo semplicemente sorprendere sia i tuoi amici che i tuoi nemici di pic potenzialmente strani e agli occhi di molti non funzionanti, e stupirli appunto dimostrandogli che ero in grado di utilizzarli e che comunque potevano workare in un certo modo, e da lì, diciamo, mi è entrata nel corpo questa passione del trollare, che per me ragazzi ci tengo a sottolineare che trollare non è quando tu prendi una stronzata tipo Garen lo build di full mana e tipo vai in mid a suicidarti, fai 0-10 e ti metti a ridere, quello non è trollare, quello è fare le teste di cazzo e far perdere game e tempo ai tuoi compagni. Il bello di trollare è quello di, diciamo, rompere quelle barriere che siete abituati a vedere, cioè che in bot ci deve andare l'ADC e il support, ma dove sta scritto? Cioè, guardate che quando la Route Games fece uscire League of Legends, non è che fece uscire League of Legends sapendo già i champion e i ruoli come andava a giocare, è un casino perché nessuno conosceva il gioco, allora ognuno giocava un po' a cazzo, poi piano piano cercando di entrare nel competitivo la gente ha iniziato a cercare le migliori soluzioni, soprattutto i team hanno cercato le migliori soluzioni per far workare una partita di League of Legends e ci riuscirono finalmente i coreani, che hanno inventato la team comp con un top laner, un mid laner, due in bot e un jungler, questa l'hanno inventato i coreani, non c'è solo League of Legends, non è nel regolamento di League of Legends che bisogna giocare così. Ed essendo che a me non piaceva tanto seguire queste regole, giocavo sempre quel cazzo che pareva a me, volevo sperimentare una cosa, la facevo. Se io volevo andare in bot lane con due tank insieme a un mio amico, lo facevo, vincevamo anche spesso. Insomma ragazzi, ero bravo a trollare e mi piaceva. A un certo punto cosa ho deciso? Ho deciso di iniziare a fare dei video su come trollare all'inizio, proprio tipo facciamo, che ne so, team comp 5 support, ma tutte cose, ripeto, come ho già detto in un vlog, solo e esclusivamente per farli vedere ai miei amici. Io ci tenevo soltanto, mettevo dei titoli proprio a cazzo, tipo team support, così perché c'erano 5 support, una copertina scaricata tipo da Google, messa su paint con due scritte. Ad un certo punto mi sono finalmente deciso a iniziare a fare video seriamente, ed è lì che è nato il personaggio di Fieric. Giugno 2015. Prima però voglio aprire una piccola parentesi in favore di Snitex, che fu colui che mi diede veramente l'ispirazione a iniziare a fare video. Io lo seguivo da poco, gli iscrissi, gli chiesi, come al solito, come fanno i BM lì che ti chiedono, mi dai dei consigli su come salire su YouTube, come faccio a crescere su YouTube? Che io non disprezzo appunto, perché sono nato così anch'io, io stesso quando avevo 150 iscritti mi misi in testa che volevo crescere, chiesi a Snitex, che a quei tempi non conoscevo, e aveva più o meno i miei iscritti, non mi ricordo se aveva poco meno di 10.000 o poco più di 10.000 aveva fatti da poco, non me lo ricordo, comunque aveva più o meno i miei iscritti, cioè vi rendete conto? Quindi io tutt'oggi, quando la gente mi chiede dei consigli su come cresce su YouTube, io do gli stessi identici consigli che Snitex mi diede un anno e tre mesi fa, che sono poi, diciamo, quelli che ho preso come dogmi, che da allora fino ad oggi ancora mi accompagnano, quindi come strutturare dei video, copertine, eccetera, insomma non sto a spiegarvelo. Mi disse che se io volevo avere successo su YouTube o facevo una cosa che solo io riuscivo a fare e che quindi la gente si interessava perché soltanto io facevo quella cosa, oppure dovevo portare un contenuto già portato da altri, ma meglio degli altri, perché se voi ci pensate bene, se tu fai un gameplay del cazzo di Minecraft, perché la gente dovrebbe seguirti quando ci sono già dei big che lo fanno milioni di volte meglio di te e che fanno video giorno dopo giorno, cioè capito? È ovvio che non puoi crescere facendo dei gameplay semplici di Minecraft, a meno che non porti uno stile completamente tuo e che soprattutto funziona. Quello lì fu il mio tasto d'avvio. Mi ricordo che ci ho riflettuto più o meno due settimane su cosa portare su YouTube fino ad arrivare poi alla conclusione che la cosa in cui ero più bravo era il troll. Quella era la cosa che meglio mi riusciva su League of Legends, perché ero Gold 2 quando iniziai la serie, quindi non mi mettevo lì a insegnare, a fare coaching, cioè capito? Come molti. Mi ricordo un video una volta, uno che era Silver 2 o Silver 1, una cosa del genere, che tipo commentava un suo replay uncut, così, c'era tipo mezz'ora di replay, lui lo commentava ed era Silver, ma perché la gente dovrebbe seguirti quando c'è gente che fa le stesse cose a dello alto? Cioè tu sei Silver, cosa vuoi insegnare? Cosa vuoi insegnare? E io che ero Gold 2 non mi sono mai messo in testa di voler insegnare, ma nemmeno quando raggiunsi il Platino, tutt'ora che sono Platino 3, non è che mi metto di insegnare come giocare, perché so usare quei due champion in croce, anzi, uno che è Sciaco, che lo so usare benissimo, ma solo esclusivamente quello, e al massimo do dei consigli su quello, ma non mi permetto di insegnare. Il fatto, ragazzi, qual è? Il fatto è che avevo bisogno di una identità, perché ai tempi non mi chiamavo nemmeno Mr. Lafieri, mi chiamavo RiserTube, che era un nome preso da un sito internet, cioè vi rendete conto? Infatti se andate a vedere i video molto vecchi, proprio i primi episodi della prima scalata, facevo l'outro come RiserTube, perché appunto era così che mi chiamavo, ma in realtà non è che mi diceva, ah, ciao Riser, ciao Rick e basta. Fieric, volete sapere, ragazzi, dove è uscito il nome? Anche se lo dissi un FAQ, ma il FAQ avevo tipo 800 iscritti quando feci quel FAQ lì in cui spiegai il motivo del mio nome, quindi ve lo radico qua, ragazzi. Mi chiamo Fieric, perché c'era un mio amico che mi regalò un account che non mi ricordo più nemmeno come si chiamava ai tempi, fatto sta che me lo regalò perché lui voleva disintossicarsi completamente a League of Legends e mi ha detto, guarda, prendi l'account, io non voglio più vedere questo gioco, però cambiaci il nome, perché non vorrei che i miei amici, quelli che ho nella friendlist, pensassero che sono io. C'erano per fortuna già gli IP, mi cambiai il nome, in Mr. LaFieric. Perché questo? Perché quell'amico che mi diede quell'account mi chiamava Fieric, perché Fieric era la fusione tra Rick, Riccardo e Fiero. E diventò Fieric. La e la al femminile, perché noi ci davamo del lei, lei proprio come sesso, femminilità, c'era della signora così per prenderci per il culo, e quindi là intendeva proprio la femminile età, ovviamente. Non perché eravamo trambioni, quindi non pensate male. E alla quota di circa 600 iscritti, decisi proprio di cambiare anche il nome del canale da Razertube, che non voleva dire assolutamente nulla, a Mr. LaFieric. Quello che poi a 5.000 iscritti cambiai direttamente, lasciai Fieric, proprio secco, semplicemente, perché nessuno mi chiamava Mr. Quindi questo, ragazzi, è l'origine del nome. Ora voglio parlarvi invece proprio del carattere. Il fattore che caratterizzò di più il carattere, del personaggio in sé Fieric, perché Fieric è leggermente diverso da me su molti punti di vista, anche se adesso mi sto un po' ricongiungendo. Però in passato tutti gli episodi a scalata, vincere, perdere, morire, farla chila, prescindere sempre lì, credevo come un coglione. Questo perché, ragazzi? Perché io, e l'ho sempre detto, sono sempre stato un fan sfegatato, proprio preso come Gesù Cristo unico, Dio sceso in terra, CVECD. Lui è sempre stato il mio idolo, e lo è tuttora, anche se non fa streaming, anche se non fa video. Il pilastro di League of Legends, lo youtuber più grande, con 2 milioni di iscritti, che non ha mai fatto ranked. Cioè, lui ha raggiunto quel risultato lì, solo e esclusivamente facendo normal, solo e esclusivamente giocando così, con i suoi amici, o con i suoi fan, con i suoi subs di Twitch, tutto con i live, cioè, capito? Lui aveva giocare così, normal vinceva, perdeva, faceva schifo, giocava e gli fregava un cazzo, lui rideva sempre. E il suo modo di giocare mi ha influenzato tantissimo. E di questo ne vado orgoglioso, perché tutt'oggi, non me ne frega un cazzo, se la partita in sé la perdiamo, perché comunque, se io mi sono divertito in quella partita, magari provo un troll, in bot, le facciamo una duo bot, se top e mid fanno schifo e perdiamo, ma noi, comunque in bot, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un sacco di kill, eccetera, io basta, mi sono già divertito, il game può finire lì, perché il mio obiettivo è quello. E quindi fu grazie proprio a questa passione per Save HD, che il mio carattere nel momento in cui ho iniziato a fare video è cambiato così radicalmente. E forse anche quello è il motivo per cui il personaggio Fieri che ebbe così tanto successo, nonostante avesse iniziato proprio con pochissimi iscritti, ma già lì prendevo piede. Proprio, secondo me, oltre alla novità che era la scalata, perché era una novità, nessuno trollava in bronzo, io proprio ho deciso di fare una serie in cui facevo tutti i troll possibili fino ad arrivare al Silver. Grazie anche a questo cambiamento del mio carattere, sono riuscito a trasmettere alla gente che mi guardava il vero divertimento, quello che veramente è un gioco, proprio il divertirsi, il fatto di giocare per divertirsi, fare quello che si vuole, non quello che la società tra molte virgolette ti impone, cioè quello di giocare in un certo modo, giocare quel determinato champion, se non è in meta non va bene. E questo secondo me fu il fattore principale che mi permise appunto di crescere e arrivare alla cifra attuale di 9400 iscritti più o meno. E anche se alcuni di voi ancora purtroppo questo non lo capiscono, Fieric è un personaggio, non è League of Legends. Se io adesso faccio altri video, faccio video troll tipo quello lì dove tira fuori dallo zaino o qualsiasi cosa ovviamente tutta editata, cioè è tutto un'attrallata, una presa per il culo. Fatevi due risate, non ditemi cos'è sto video di merda, è cancerogeno, vai inizio a fare video così perché sono più facili, perché vedi che attirano più iscritti, cioè io ho sempre fatto, sempre fatto, quello che mi piace. Perché se io facessi solo cose per soldi, fare solo ed esclusivamente la scalata, perché la scalata mi fa il doppio di views di qualsiasi altro video. Quindi se io facessi le cose solo per views, solo per soldi, fare solo la scalata, perché non è neanche difficile. Guarda, adesso cosa sto facendo? Sto facendo il video con la videocamera, che poi dovrò trasferire il file dentro il computer, registrando l'audio con Audacity e quindi dopo dovrò esportarlo, sincronizzare. Invece quando faccio il video di Golf Legends, tengo tutto nella traccia audio, il video tutto nella traccia video, perché esistro un'unica cosa con OBS e basta e quindi ci metto anche meno, non devo perdere tempo a sincronizzare, non perdo tempo a sistemare magari la webcam e mettere in alto a sinistra perché è già impostato OBS. Non tirate fuori che sto cambiando format solo perché League of Legends attira meno, perché non è vero. Vabbè, direi che siamo andati fin troppo fuori tema, era soltanto per aprirvi gli occhi su molte cose, anche se so che molti stanno, cioè quasi tutti nel mio canale state apprezzando i nuovi format che faccio. GTA ha avuto molto successo il primo episodio, 5.000 views, 7-800 like, quindi ci ha dato benissimo le photoshopate ignoranti un po' meno ma non è un problema perché è una serie e le serie sono fatte per avere successo nel tempo, magari non subito. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia risposto a molte domande, specialmente quelli che mi conosco da poco e che magari voleranno sapere della mia storia. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi e seguitemi sui social e noi ci vi chiamo ad un prossimo video. Bella!